La Redfish Long-Term Capital è una holding di partecipazioni industriali, ci siamo quotati sul mercato EGM da pochi mesi, quindi a giugno del 2023. Il nostro obiettivo è quello di investire nel panorama delle piccole e medie imprese italiane ad elevato potenziale, quindi realtà presenti in determinate nicchie di mercato, in particolare quello che rappresenta un po' made in Italy sui mercati internazionali. Ad oggi abbiamo una patrimonializzazione di circa 30 milioni, abbiamo in portfoglio circa 6 società, l'obiettivo chiaramente nostro è quello di crescere in un orizzonte di medio periodo. Ad oggi la nostra value proposition è quella di rappresentare e offrire agli imprenditori un partner di lungo periodo che possa affiancarli nei loro piani di sviluppo, quindi avere accanto un socio operativo, un imprenditore come è l'imprenditore italiano che lo affianca in questo percorso. Percorso di crescita che può essere sia sulla parte acquisitiva, quindi nell'individuare delle targhe da acquisire, sia in ottica di internazionalizzazione, ma anche in un percorso di quotazione che possa portare ciascuna partecipata anche a questo stadio intermedio di sviluppo delle società. Sono tutte realtà sostanzialmente di una size media, quindi rappresentano l'imprenditoria italiana e i nostri soci ci hanno seguito in questo percorso e vedono in noi sicuramente la possibilità con la quotazione, tra l'altro, di poter anche vedere una valorizzazione diretta delle azioni detenute. Bene, ma su quali settori o mercati puntate di più? Ma diciamo, noi oggi abbiamo chiaramente come Olde una struttura di investimenti diversificata, quindi tendenzialmente possiamo offrire un investimento con un rischio immediato, se poi vogliamo definirlo in questa maniera, e ci siamo focalizzati sulla meccanica di precisione, sull'aerospace in particolare. Quello che guardiamo in questo momento è sempre settori particolari del Made in Italy, quindi il design, il lighting, ma anche il mondo dell'health care, su cui crediamo per alcune tipicità, anche in ottica poi della Silver Economy, che sarà una delle direttrici di sviluppo nei prossimi anni, possa dare sicuramente i maggiori ritorni anche in termini di creazione di valore. Sì, mi viene in mente a questo proposito il trend anche della telemedicina, che è molto sostenuto anche a livello statale, con il piano nazionale di ripresa e resilienza, quindi la Silver Economy, proprio anche data la struttura demografica della nostra popolazione, è un driver molto importante. Alla luce di tutto questo, come sta andando il 2023 e come vede il 2024? Il 2023 siamo stati molto soddisfatti dai risultati delle semestrali, chiaramente come holding abbiamo una rappresentazione della semestrale a livello di emittenti, ma poi una rappresentazione consolidata che poi fornisce ai nostri investitori come hanno performato le nostre partecipate, quindi chiaramente il panorama è stato positivo, quindi sono tutte realtà in crescita, ad oggi la holding ha una disponibilità di cassa superiore ai 10 milioni che andremo ad utilizzare proprio su operazioni che stiamo guardando in questo momento, che appunto si riferiscono ai settori che dicevamo poco anzi. Perfetto, siamo stati con Andrea Rossotti, amministratore delegato di Redfish. Grazie. Grazie. Grazie a lei.